La parola a Franco Lotito, segue Andrea De Maria. Anch'io penso, come molte compagne e compagni prima di me, che questa sia una bella giornata. Aggiungo una bella giornata per una buona politica. Nel senso che sono convinto che ci sono, e lo dimostra questa sala a quest'ora, ci sono le condizioni per aprire una fase nuova. Una fase nuova nella quale tutte le forze non si sente. Facciamo così. Dicevo che questa sala dimostra che esistono le condizioni per una nuova fase nella quale tutte quante le forze politiche della sinistra, la sinistra che sta dentro il Partito Democratico, è quella che milita intorno al Partito Democratico, e che adesso dunque fa riferimento per parlare, ma a chi? Al ceto politico? No. Ci sono le condizioni per una nuova fase politica se noi decidiamo di parlare come sinistra del Partito e di parlare al Paese, alle donne, agli uomini e al mondo del lavoro. E allora, innanzitutto una cosa. Il congresso è finito. Ma certo che è finito. Attenzione però, questa affermazione ha un valore se la sua filigrana non è la rassegnazione. Ha valore se la sua filigrana è un impegno a ricostruire l'unità e la riorganizzazione della sinistra. Questo sì, che dà senso a questa affermazione. E allora, faccio breve, noi dobbiamo coltivare l'orgoglio di rappresentare noi le speranze di un pezzo importante della volontà popolare. è stato detto questa mattina noi dobbiamo parlare, usare quel noi che Pierluigi Bersani ci ha detto noi partito, sì, noi partito ma per parlare al Paese proprio perché vogliamo essere noi l'essenza del partito. Il punto è come noi parliamo al Paese come ci comportiamo come partito. Vedete, avverto anch'io la esigenza la necessità del pensiero profondo di un modello, di una piattaforma di valori forti. Avrei anch'io la necessità, ad esempio, ma il tempo questo non ce lo consente, avrei piacere la necessità di ragionare di più, ad esempio, sul rapporto tra l'efficienza dell'agire politico e democrazia. sapendo che in questo modo noi metteremmo sotto osservazione la contraddizione di fondo del renzismo. Mi piacerebbe discutere ed approfondire i temi che riguardano l'impatto che la grande crisi economica che abbiamo conosciuto in questi sette anni sta producendo non solo sull'economia ma in termini di trasformazione delle classi sociali del nostro Paese. Su questo dobbiamo interrogarci, ma il tempo non c'è. E allora io penso sia necessario fare uno sforzo per vedere come noi organizziamo questo lavoro di ricerca e le cose che questa mattina ci ha offerto Gianni nel suo intervento sono la base dalla quale partire. Ma insieme a questo e io avverto anche la necessità di un affondo sui contenuti del nostro agire politico. Dunque penso alla necessità di mettere i contenuti in testa e prima che venga il momento della tattica politica. E per questo dobbiamo anche avere la capacità noi di parlare un po' più chiaro. di essere più, come posso dire, più forti nella nostra capacità di esprimere le nostre idee e la nostra voglia di cambiare le cose e in questo senso immettendo nel nostro discorso quel tanto di radicalità che la rende immediatamente percepibile davanti alla gente. Qui me lo lasci dire Gianni meno sommessamente diciamo di quanto forse si può e si è fatto fino adesso. E allora vediamo. Io penso che ci sono dei temi sui quali noi dobbiamo entrare nel vivo della loro essenza per vedere se ci servono per individuare terreni di lotta e di confronto politico. Dico alcuni temi cito soltanto i titoli naturalmente non mi soffermo sui contenuti perché appunto non ci sono le condizioni per farlo. La riforma elettorale primo tema. Beh qui dobbiamo dire io l'ho sentito questa mattina giusto ha ragione i tempi sono quelli e Pierluigi Bersani ci ha spiegato che quella riforma così com'è non è soltanto sbagliata e anche pericolosa. Bene se è pericolosa il problema non è quella di limarla ma è quella di impegnarci in un'iniziativa per cambiarla e cambiarla a fondo a partire dalla questione che riguarda il rapporto con gli elettori la preferenza o non la preferenza ma noi dobbiamo ristabilire un rapporto con gli elettori a partire da questo elemento fondamentale che la legge la riforma della legge elettorale non ci consente e quindi su questo bisogna andare in chiaro sapendo che ci sarà un momento nel quale in Parlamento bisognerà decidere e allora che cosa decideremo quale sarà la nostra risposta in che modo gli attrezziamo la nostra risposta riforma del Senato le proposte che sono in campo sono sono antipolitica sono antipolitica ed è del tutto evidente c'è in questo momento una proposta che invece è stata avanzata da Vannino Chiti un nostro compagno guardate io penso che sarebbe giusto e necessario fare di questa proposta un elemento di confronto e di discussione cominciamo a parlarne al nostro interno andiamo avanti i temi del lavoro il decreto legge sui contratti a termine sull'apprendistato è sbagliato è inaccettabile così come è sbagliato è inaccettabile quel decreto andrebbe ritirato per essere semmai integrato con il discorso più generale che porta il disegno di legge delega di cui si deve discutere e comunque va cambiato perché quei 36 mesi sono eccessivi è un precariato per l'eternità la verità è che il lavoro disponibile è drammaticamente scarso e di incrementare la precarietà giusto e chiudo non creare le condizioni per ridistribuire la scarsità che brutta la scarsità di tempo mi dispiace vorrei parlare ancora per 32 secondi della questione del partito del partito per dire che occorre restituire al partito essenzialmente una cosa la sua autonomia la sua autonomia nelle condizioni date il partito non ha nessuna autonomia noi dobbiamo affrontare questo argomento affrontando due questioni fondamentali il problema del rapporto fra la carica del segretario e la carica di presidente del consiglio è il tema della riforma dello statuto del partito che così com'è non va non va su questo dobbiamo aprire un confronto forte e serio ma allora e ho davvero chiuso penso che ci siano le condizioni perché su questi temi noi la sinistra noi facciamo qualcosa che il partito questo partito non vuole più fare discutere argomentare costruire Gianni le proposte organizzative facciamo una cosa il partito ha smontato i forum che era uno strumento di partecipazione di confronto e di elaborazione mettiamo in piedi noi dei forum dei forum tramite i quali affrontare questi temi questi argomenti in questo modo sviluppando un dibattito che non c'è più nel partito e rovesciandolo all'interno del partito con la loro capacità di iniziativa di proposta bene queste tante altre cose sarebbero da dire ma appunto il tempo è tiranno alla prossima puntata vedremo il resto grazie 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 grazie